bella a tutti i forniters benvenuti su leontube in questo video andiamo a fare gli incarichi miascolo fusa elise andiamo a fare questa missione qua precipita per 5 piani o più senza subire danni allora atterriamo in questo punto della mappa qui dove sono io dove ho pingato lo state vedendo proprio lì al centro che è questo posto qua dove c'è questa casa e questo questa roccia la montagna rocciosa diciamo sopraelevata poi salite qui nel grinding vi buttate e avrete completato la missione intanto abbiamo fatto anche la missione precipita per 5 più piani senza farti male perfetto molto molto semplice se il video vi è piaciuto ragazzi mi raccomando un bel mi piace condividetelo con i vostri amici e come sempre se mi va vi invitiamo iscrivervi al nostro canale non dimenticate di cliccare la campanella per non perdere i nostri aggiornamenti ciao a tutti